Buongiorno a tutti, sono Bertoldi Freddi, titolare dell'albergo Ristorante Campana, che gestisco assieme a mia moglie Silvia da oltre dieci anni. Proseguiamo l'attività iniziata nel lontano 1970 dai nostri genitori. Proponiamo una cucina casalinga che valorizza i prodotti locali del territorio, in modo particolare il tartufo nero, nella fattispecie lo scorzone estivo, che trova qui, in questo territorio, la sua massima espressione. Per il resto della nostra cucina proponiamo della pasta fatta in casa, una cucina tradizionale, la carne alla griglia, i vari stufati bolliti. Qui vicino abbiamo l'osservatorio astronomico, il MARSEC, Marana Space Explorer Center, con il quale collaboriamo ovviamente. Siamo operatori dell'anello ecoturistico, con il quale siamo collegati. Vi è una proficua sinergia tra i vari operatori. Durante la seconda domenica di ottobre, in paese, si fa una festa proprio in onore del tartufo nero, che raggiunge appunto la sua completa maturazione ad ottobre. Questa festa è molto seguita, perché è l'unica della zona. Venite a trovarci! Grazie!